È lunedì sera dei tardi, però ci tenevo a fare questo video per non saltare un po' l'appuntamento settimanale. La ricerca della casa continua. Io tra l'altro sono anche quasi in fase di travolta del trasloco, quindi dovrò poi abbandonare questa casa e trasferirmi in una stanza che diciamo diventerà la mia stanza finché non troverò la mia casetta mobile che non vedo l'ora di trovare perché ormai ho proprio voglia di vivere in camper, di vivere in van insomma e quindi non vedo l'ora di trovare. Sto continuando la ricerca, tra l'altro grazie davvero di cuore per tutte le segnalazioni che mi state mandando. Sono veramente tantissime, alcune inaccessibili per le mie tasche, altre un po' per i miei gusti altri invece sono interessanti, però non è proprio insomma quello che stavo cercando perché ormai mi sono fissato su un mezzo ben preciso che è il Mercedes-Benz 207 diesel. Diciamo che è molto difficile trovare questo mezzo, quindi sto valutando l'idea di allargare un attimo un po' di più gli orizzonti perché è un mezzo soprattutto difficile da trovare in ottimo stato. È un mezzo tra i più, come si dice, un po' come il Volkswagen, o lo trovi che costa carissimo oppure lo trovi che costa poco ma è mal ridotto e quindi comunque ci dovresti spendere un sacco di soldi per rimetterlo a posto. Ad ogni modo non si molla, continuerò a cercare la mia nuova casa mobile e comunque nel frattempo andrò a vivere in una stanza, non ancora, credo che passerò qui ancora un mesetto adesso c'è più o meno un mesetto, poi entro dicembre mi trasferirò. Io adesso sono fuori Torino, vicino a Settimo e poi andrò a vivere invece a Torino in città. Mi verrà anche un po' più lontano andare a lavoro, però vabbè, insomma, è un compromesso che ci sta. Allora, il mezzo che sto cercando l'ho trovato ma non l'ho, come dire, cioè gli ho fatto una proposta economica. Il mezzo è bellissimo, è veramente, veramente ben tenuto, tranne qualche piccolo ritocco da fare sulla carrozzeria. Ora, siccome io non me ne intendo, non so quali siano i costi da affrontare per rimettere a posto un po' la carrozzeria di un mezzo, soprattutto per quanto riguarda la ruggine, e anche perché io non ho idea di quanta ruggine effettivamente ci sia dentro a quel mezzo, perché ho fatto una videochiamata con il tipo che è stato gentilissimo, Rodolfo, quindi lo ringrazio veramente tanto. Si è reso super disponibile, è stato veramente proprio... cioè, grazie Rodolfo, se mai tu guardassi questo video. Però, appunto, è stato sincero e tutto, ma io non intendendomene non ho idea di che cosa potrei andare a spendere. E in più, comunque, il mezzo è costoso, perché la cifra da cui è partito lui è molto alta per le mie tasche. Ma prima di magari raccontarvi questa roba qui, vi faccio vedere di che mezzo stiamo parlando, perché è bellissimo. Allora, il mezzo è questo qui, come potete vedere è il Mercedes-Benz 207 diesel, che veramente, insomma, mi piace un casino. E come vedete ci sono anche dei punti di ruggine, in questo caso molto piccoli, però, vedete, su tutta la portiera, un po' dappertutto, ci sono dei punti. Quindi la mia paura è, ce la faccio, però vi faccio fare una panoramica di quello che, diciamo, è il mezzo. Intanto mi piace questo divano enorme che ha, lo trovo fantasioso, ecco, questo è il braccio di Rodolfo. Trovo questo divano meraviglioso. Questa sedia, che è in più, molto probabilmente, io andrò poi a levarla nel caso dovessi acquistarlo io, è cosa improbabile, però, giusto per raccontarvi un po'. Quindi questa è sicuramente una sedia che io toglierei per guadagnare spazio, questa è quella davanti. Però al mezzo lo trovo, a me quel divano lì col tavolo mi piace, è un casino. E' proprio, cioè, come la vorrei io. E poi, come possiamo vedere, il mezzo mi sembra ben tenuto. Questo è il davanti. Quanto è bello, quel cruscotto lì è fantastico. Cioè, lo adoro. E, insomma, vabbè, quel motore è quella roba lì grossa. Qui, come potete vedere, questo è il cruscotto, lì ci sono un po' di cianfrusaglie sue. Il motore sta lì in quella scatola nera grossa, davanti alla marcia. E poi lui, qua mi fa vedere, che ha rifatto l'impianto elettrico. Quindi, diciamo, l'ha fatto lui. Io non ho idea se ha fatto un buon lavoro o meno, ma l'impianto è stato rifatto. Questo è quello che mi ha detto, appunto, Rodolfo. Per quanto riguarda l'interno, come potete vedere, la cucina, adesso in questo momento ci fa vedere il frigo. Che, sì, potrei utilizzare o no, ma questo sinceramente è una roba che non è importante. Ho notato che in due anni di viaggio, anche senza frigo, ho potuto comunque mantenere bene il cibo. E, come vedete, c'è spazio. Ecco, questo è quello che mi piace, un casino di questo mezzo. C'è spazio, c'è quel divano enorme con l'apertura della porta lì, che è fantastica. E il tavolo è una cosa che ha fatto, tra l'altro, lui. Quindi io potrei anche rifarlo, ma questo qua mi piace molto. E anche, vedete che sotto i sedili c'è spazio per mettere cose. Anche se io poi, come ormai mi conoscete benissimo, non ho grandi cose da tenere, però, insomma... E quindi, continuando il tour, vedete che il tavolo è bello perché si muove in vari modi. Si può girare, si può, insomma, spostare a piacimento. Questo è comodo per, sia per quando si cena con qualche amico o amica, o per quando magari vuoi appoggiarti per fare altre cose. Qui mi fa vedere la batteria dei servizi, che è nuova, e quindi la va appena cambiata. Come vedete, a me l'interno piace un casino, cioè proprio piace tanto. Questo è il bagno, che non mi fa impazzire, devo dire, ma questo non è un problema per quello che cambierei. Ok? Ecco, poi c'è la parte bella che piace a me, cioè il letto basculante che si ritira. A me questa roba piace tantissimo perché si guadagna spazio interno, non avendo il letto invece come ce l'hanno in molti camper giù. Quindi mi piace molto. Come vedete, da fuori è proprio il mezzo che io adoro, mi piace. Mi piace molto la finestra fuori, la scaletta che sale su. Cosa che a me piace tantissimo perché ci farei una piccola terrazzina sopra. Beh, il mezzo è fantastico, ragazzi. Cioè, il mezzo è meraviglioso. Come vedete, non so perché, ma mi sono follemente innamorato di questa linea. Non ho idea del perché, ma mi piace un casino proprio tanto. E quindi, insomma, questo è il mezzo. Che dirvi? Mi è piaciuto un casino. Allora, la parte dolente, la parte dolente è che questo mezzo costa tantissimo per le mie tasche, cioè costa, lui parte da 15.000 euro. Abbiamo provato un po' a contrattare e lui il massimo che poteva scendere non era di molto. Io gli ho fatto, prima che lui mi dicesse il suo, io gli ho fatto una mia proposta, che era una proposta veramente indecente. Cioè, io mi sono vergognato, gli ho chiesto scusa della proposta che gli sarei andato a fare immediatamente. Però l'ho giustificata dicendo, guarda, è vero che è indecente, quindi hai il diritto anche di insultarmi. Però è una proposta sincera, nel senso che questo è il mezzo, questi sono i soldi che io posso mettere tutto quello che è in questo momento. Quindi è quello che potevo, cioè 8.000 euro, che sono poi i soldi che avevo un po' da parte, i soldi di Gigi che ho venduto, bla bla bla. E lui però, giustamente, ha declinato l'offerta e lui mi ha detto, guarda, io al massimo, al massimo scendo di 1.000-2.000 euro. Quindi da 15 sarebbe sceso a 13.000, per me 13.000, in questo momento è troppo, non potrei permettermelo, quindi ho dovuto dirgli di no. Ci siamo un po' lasciati dicendoci, va bene, senti, tu vendilo, io spero per te che tu lo possa vendere ai soldi che desideri, insomma, con quello che hai proposto. Non dovessi venderlo e nel caso volessi riaprire una trattativa possiamo cercare di trovare un accordo. Ecco, quindi ho lasciato una porta mezza aperta. Perché? Perché magari se lui da qui ha sei mesi e non lo vende, io in quei sei mesi magari ho guadagnato dal mio lavoro altri soldi che posso aggiungere per comprare il mezzo. Considerate però che io 13.000 non lo so per un semplice motivo, perché poi devo fare un sacco di lavori sia internamente, perché lo vorrei risistemare tutto, ma sia di carrozzeria, cioè io vorrei capire se intanto appunto quanto mi costerebbe sistemare tutta quella ruggine che abbiamo visto. E la mia perplessità è questa, cioè, lui non lo sa, me l'ha detto con franchezza, però sotto il tappeto, come si dice, sotto il pavimento, come è messo? E lì non lo sa nessuno, dice io l'ho comprato, non lo so, quindi questo è un dubbio che ho. Per cui dovrei valutare anche l'idea di dire, ok, se io lo compro, però una volta smontato e mi rendo conto che marcio, mi costa rifarlo. Quindi, cioè, non vorrei che alla fine della storia mi costasse un po' troppo questo mezzo, quindi sto cercando di valutare un po' di cose. Però almeno questo mi piace, ma, e qui apro una piccola parentesi, cercando in questi giorni sempre appunto su Facebook e su subito.it, che sono un po' i due siti dove si trova un po' di tutto, ho trovato un mezzo bellissimo, che appunto non mi ha ancora convinto, ma quando l'ho visto ho detto, ah però, questo è bello. E anche quello costicchia, adesso ho contattato la persona del mezzo, stiamo così chiacchierando, però anche lì, non lo so, voglio essere veramente convinto, anche perché questo mezzo mi piace molto per il fatto che è molto più spazioso, questo, molto più, non lo so, sento molto più casa. L'altro non mi dispiace, ma dovrei fare, dovrei fare un cambio molto forte di lavori, perché l'altro è messo male, distribuito male, per cui dovrei smontarlo completamente tutto, mentre qui in realtà, a parte il bagno che lo risistimerei, e due o tre cosette, il mezzo già di per sé così mi piace, anche la disposizione, come avete visto, la cucina, aveva anche la porta vicino, per cui una cosa che mi piace molto quando stavo in giro per la Spagna era cucinare con la porta aperta, perché anche i fumi della cucina, eccetera, potevano uscire, ma poi mi piace l'idea di cucinare guardando magari davanti l'oceano, guardando le montagne, non lo so, quindi sto valutando un attimino il da farsi. Devo sperare che il tipo batta la testa da qualche parte, in senso buono, Rodolfo, e che si faccia prendere, non lo so, da una forte compassione, che dica, cavolo, dai Gianni, va bene, non lo so a te, perché sei anche uno che è simpatico, non lo so. Vabbè, insomma, a parte le mie fantasie, la ricerca della nuova casa continua. Io vi ringrazio sempre per tutti i messaggi, per tutto l'affetto, per tutto quello che mi state inviando, grazie davvero di cuore, grazie a chi si è iscritto, visto che nonostante i video siano calati e non siano più di viaggio, comunque il canale ha raggiunto i 9.000 iscritti, grazie davvero di cuore. Io non me ne capacito, non so perché ci siano questi iscritti, perché i miei video sono abbastanza noiosi rispetto a tutti i video che ci sono su YouTube, per cui non lo do per scontato, grazie, grazie davvero di cuore. Noi ci vediamo al prossimo video, vi terrò aggiornati, vi avevo promesso che vi avrei portato a lavoro, ahimè, faccio sempre fatica quando vado a lavoro a fare un video, ma giuro che il prossimo lo farò sul lavoro, quindi vi racconterò di più la mia vita sul lavoro, vi spiegherò bene anche cosa faccio al lavoro, perché in effetti ancora non vi ho detto effettivamente il ruolo mio al lavoro, quindi nei prossimi giorni, anzi già domani o dopo domani, vi farò un video sul lavoro e vi racconterò un po' la mia vita lavorativa. Ve l'avevo promesso, devo mantenere la promessa, assolutamente. Quindi ci vediamo poi al lavoro. Intanto grazie davvero di cuore. Ciao!